Un romanzo storico e biografico, liberamente ispirato alla vita e alle eroiche gesta di Salvatore D'Amaggio, tenente bersagliere e mitragliere gelese, protagonista indiscusso della grande guerra e Piume, baciatemi la guancia ardente. L'ho scritto Vera Ambra. Il libro ha ottenuto il logo ufficiale per il centenario della Prima Guerra Mondiale, concesso dalla struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed anche il patrocinio morale della situazione nazionale del Fante. Attraversare quel periodo non è stato per nulla facile, ma soprattutto perché si trattava di ragazzetti, ragazzetti strappati alle famiglie e buttati in posti impensabili, invivibili. Salvatore ha sviluppato la sua azione eroica in un posto difficilissimo, il più difficile di tutto il fronte della guerra, a 2200 metri d'altezza sul dende italiano, a difeso il dende italiano, e da solo con sette soldati è riuscito a fermare l'avanzata del più grande esercito del mondo organizzato e nei tre giorni che precedettero la battaglia morirono 3.360 soldati italiani. La presentazione del libro si è svolta nei locali del Museo archeologico regionale di Gela. I lavori sono stati coordinati dalla giornalista Fabiola Polara alla presenza delle autorità cittadine e dei presidenti delle associazioni Rotary Club, FIDA, Palla e Unse Club del Golfo, Kivanis, Proloco, Archeoclub e Lega Navale. È una storia che non è semplicemente la storia di un soldato, è la storia di un uomo che è un medico, è anche un soldato ed è combattuto fra queste due alternative, volendo quasi esclusive, nel senso che il soldato toglie la vita, il medico le salva, quindi è anche un po' combattuto da questo punto di vista. E rappresentare invece un eroe attraverso dei disegni, che esperienza è stata? Attraverso dei disegni esprimere, spero, le mie potenzialità e anche io mi sono immerso nella storia perché ho dovuto fare prima di tutto una ricerca anche di immagini, quindi immagini crude, immagini storiche e ovviamente ti immedesimi nel personaggio. L'accoglienza è stata curata dai docenti e dagli studenti dell'Istituto Alberghiero retto da Grazio di Bartolo. Il museo racconta delle storie, racconta delle storie antiche ma questa è l'occasione per una storia un po' più moderna.